Nella lunga puntata di Terra Amara di sabato 25 novembre, assisteremo alla crescita dei dubbi di Demir, alimentati dall'odio insidioso di Umit e dalla complicità ambigua di Sedda. La trama si infittisce quando Fecheli, desideroso di fare chiarezza, si reca da Fikret per una conversazione cruciale. L'incontro tra Fecheli e Fikret è intriso di tensione. Fikret, con il suo sarcasmo tagliente, accoglie Fecheli con domande provocatorie sullo stato di salute di Demir o la presenza della polizia. Tuttavia, Fecheli riesce a entrare e, con serietà, inizia a esporre i suoi pensieri. Gli confessa di aver commesso un grave errore nel ritenerlo colpevole per l'incidente di Zuleia. Rivela che il suo giudizio era offuscato dall'odio e l'impazienza derivante dalla paura che, se Demir avesse scoperto la verità, gli avrebbe fatto del male. Fikret, colpito da queste rivelazioni, accusa Fecheli di non capire quanto stia soffrendo. La situazione si fa più intensa quando Fecheli gli confessa di aver perso tutti i suoi cari e che ora lui è l'unico rimasto. Sincero, Fecheli ammette di non voler perdere anche lui. Tuttavia, Fikret, ancorato alle sue ferite, accusa Fecheli di avergli voltato le spalle, un gesto simile a quello del padre che l'aveva rifiutato. In un momento di tensione palpabile, Fecheli riconosce l'errore, chiedendo scusa e cercando di dissipare le nuvole che oscurano il loro rapporto. La trama si sviluppa con un'intensa dichiarazione di Fecheli, portando alla luce nuove sfaccettature dei personaggi e prefigurando possibili cambiamenti nella dinamica della storia. Nonostante le sincere scuse di Fecheli e il suo tentativo di chiarire il malinteso, Fikret si mantiene saldo nella sua riserva, rifiutando di perdonarlo fino a quando lo zio non sarà convinto che non sia una persona crudele. Il sipario della sera si alza su una sorpresa inattesa, quando Umit fa la sua entrata a Villa Yaman. Nonostante la sorpresa e l'irritazione di Demir, Zuleyya la accoglie con cordialità. Umit, mostrando una cortesia apparentemente disarmante, ringrazia Demir per i fiori e dichiara di voler verificare di persona le condizioni di Zuleyya. Con un sorriso, Zuleyya assicura a Umit di stare bene e la ringrazia ancora per il suo salvataggio, invitandola a cena. Umit, pur rifiutando l'invito a cena da parte di Zuleyya, ribalta la situazione invitandola a cena a casa sua. Il clima diventa teso quando Amine, inaspettatamente, fa delle affermazioni sconvolgenti. Senza mezzi termini, dichiara che Zuleyya non ama Demir, bensì il suo amante Yilmaz. La dichiarazione provoca imbarazzo generale, e nonostante i tentativi di farla tacere, Amine continua con rivelazioni ancor più scioccanti. Sostiene che Zuleyya visita la tomba ogni notte e consiglia a Demir di lasciarla. Una tensione palpabile pervade l'atmosfera dopo le dichiarazioni scioccanti di Amine. Imbarazzati di fronte a tali rivelazioni, tutti cercano di ripristinare una sorta di normalità. Demir, visibilmente irritato, accompagna Umit alla sua auto. E, con un tono gelido, le chiede se intende fargli pagare a caro prezzo la sua audacia, rendendogli la vita un inferno. Le intima di non fare più ritorno. Umit, però, ribatte con determinazione. Le sue parole, cariche di ambiguità e passione, sfiorano il braccio di Demir mentre gli confessa il suo amore. Demir, ormai satura di questa situazione, la avverte di non provocarlo e di non fare ritorno mai più. Gulten, nascosta dietro una colonna, osserva ogni dettaglio di questa scena carica di tensione, raccogliendo frammenti di verità che potrebbero alterare gli equilibri della villa. Tornato in casa, Demir deve fare i conti con le continue affermazioni di Amine, che non sembra intenzionata a fermarsi. Le sue parole si insinuano nella serenità della villa come veleno, e Demir cerca di proteggere Zuley, chiedendole di non lasciare che le sue dichiarazioni la turbinino. Zuley, sempre decisa e forte, cerca di confortare Demir. Gli fa notare che li ha invitati a cena e che, inoltre, gli ha salvato la vita. Tuttavia, Demir, desideroso di preservare l'integrità della sua famiglia, le chiede di non cedere alle provocazioni di Amine. Vuole mantenere un certo distacco e non vuole Umit sempre presente nella loro vita. Batiar si trova a cena con Fekeli e Lutfai, e la conversazione si orienta verso le dinamiche complesse che coinvolgono Fikret e la famiglia Yaman. Fekeli, cercando di comprendere le ragioni dietro la visita di Batiar a Kukurova, gli chiede se è stato Fikret a spingerlo a venire. Batiar conferma, spiegando che Fikret gli aveva suggerito di recarsi lì per essergli vicino. La discussione si sposta su Demir, e Batiar condivide che Fikret gli aveva raccontato della difficile situazione finanziaria del padre, causata dai debiti di gioco con Adnan. La rivelazione colpisce Batiar, che ammette di non sapere come si sia arrivati a tale punto e che non era a conoscenza della parentela con Demir. La conversazione si approfondisce quando il trio parla di Umit. Batiar rivela di essere al corrente della relazione tra Umit e Fikret, ma aggiunge un elemento inaspettato, Fikret è innamorato di Mujgan. La trama si complica ulteriormente, gettando luce su un intricato intreccio di relazioni amorose e segreti familiari. Mentre Fikret e Mujgan sono nell'ufficio di Fikret, emerge un momento di confidenza. Fikret le chiede se avesse mai pensato che potesse essere lui il responsabile dell'incidente a Zuleya. Mujgan risponde con fermezza di no, sottolineando che vede il suo cuore e sa che non sarebbe in grado di ferire nessuno. La conversazione prende una piega più intima quando Mujgan esprime le sue preoccupazioni riguardo a Demir, descrivendolo come spietato quando si arrabbia. Fekeli, temendo che Demir possa infliggere a Fikret la stessa sorte riservata agli Ilmaz, ha cercato di proteggerlo. Fikret svela il desiderio di avere qualcuno che creda in lui senza fare domande, ma questo desiderio è stato deluso dallo stesso zio che avrebbe dovuto proteggerlo. Umit intanto, sentendosi minacciata dalla prospettiva di chiudere ogni rapporto con Sevda, propone un piano attraverso un biglietto, indicando chiaramente cosa si aspetta da lei. La richiesta di Umit pone Sevda di fronte a una scelta difficile. Nel frattempo, in ospedale, Out annuncia ai colleghi di essere stato nominato nuovo primario, poiché Umit è in congedo illimitato. A Villa Yaman, Demir apre una lettera proveniente dall'Agenzia di Assistenza all'Infanzia. La comunicazione informa che su richiesta di Zuley a Yaman, il nome del campo estivo Unkar Yaman è stato cambiato in campo estivo Ilmaz a Caia. Demir, contrariato, rimprovera Zuley a per non avergli chiesto prima di prendere questa decisione. La tensione cresce quando Zuley a spiega che il campo è stato finanziato con i soldi di Ilmaz e gli chiede se desidera cancellarne la memoria. Demir, visibilmente irritato, le fa notare che ha accettato anche di dare il nome di Ilmaz ad Adnan per farla felice, nonostante fosse un gesto difficile per lui. Zuley, con tono pacato, gli fa notare che avrebbe dovuto chiederle prima di prendere una decisione del genere e gli esprime il suo dispiacere. La trama si complica con conflitti personali e decisioni che mettono in discussione l'equilibrio e la comprensione reciproca tra Demir e Zuley. Dopo l'alterco riguardante il cambio di nome del campo estivo, Demir decide di parlare con Sevda. Con sincerità, confida di essere sicuro dell'amore di Zuley, ma il solo sentire il nome di Ilmaz ancora lo innervosisce. La discussione si sposta su Umit e Demir chiede se Sevda ha avuto occasione di parlarle. Sevda risponde di non averla trovata né a casa né in ospedale, ma gli promette che lo farà. Demir, grato per la sua collaborazione, la abbraccia. Fekeli e Lutfai, venendo a conoscenza del congedo di Umit, si insospettiscono. Sermin rivela loro che Umit si chiama anche Alia, una notizia che solo Sevda conosce. Racconta loro di essere stata a trovarla in ospedale, ma Umit si è immediatamente messa in congedo. Entrambi si rendono conto che c'è qualcosa di sospetto in corso e cominciano a sospettare che stiano progettando qualcosa dietro le quinte. Nel frattempo, Zuley ricorda a Demir dell'invito a cena da parte di Umit per il venerdì successivo. Demir, ancora turbato dalla situazione, confessa che non gradisce che si frequentino. Zuley ha cerca di capire il motivo di tale reazione, chiedendo se ci sia qualcosa che non sa e ricordandogli che le ha salvato la vita. Demir, sentendosi con le spalle al muro, accetta alla fine di partecipare alla cena. Tuttavia, l'atmosfera si infittisce quando Sermin li raggiunge e comunica che Umit non è a Kukurova, avendo preso un congedo per motivi familiari. Il fatto che Umit fosse presente durante la loro cena la sera precedente, ma non avesse rivelato nulla. Nel frattempo, Sevda si reca in redazione a mettere un annuncio sui giornali, consegnando un foglio con la scritta, «Non posso vivere senza di te, non posso perderti». Il giorno seguente, l'annuncio appare su tutti i giornali, e Umit lo legge con soddisfazione. Successivamente, Sevda si incontra con Umit e le assicura che ora che l'ha ritrovata, non la lascerà mai. Le promette di fare tutto ciò che vuole, persino tradire chi le ha sempre dimostrato amore. Umit, colma di emozioni, la abbraccia. Al suo ritorno a casa, trova Fikret ad attenderla, e lei gli dice che Sevda farà tutto ciò che desiderano. Fikret sorride soddisfatto. Nel frattempo, Sevda ha una conversazione con Zuleya, cercando di convincerla a visitare spesso la tomba di Yilmaz per pregare per lui. Le spiega che così lui potrà riposare in pace, sapendo che non è stato dimenticato, nonostante l'amore di Zuleya per Demir. Le regala una pianta di Narcisi, simbolo del messaggio «Non ti ho dimenticato», affinché la pianti sulla tomba di Yilmaz. Sevda, mettendo in atto il suo piano per separare Demir da Zuleya, racconta a Demir che la moglie è andata al cimitero per portare fiori sulla tomba di Yilmaz, come fa ogni giorno. Confuso, Demir le chiede cosa sta cercando di comunicargli. Sevda, fingendo di non volerlo preoccupare, gli racconta che sospetta che Zuleya vada troppo spesso da Yilmaz e che le ha chiesto una pianta di Narcisi, simbolo di «Non ti ho dimenticato», da piantare sulla sua tomba. Prosegue affermando che Zuleya chiama il bambino Yilmaz quando Demir non è presente, mentre quando lui è con loro, lo chiama Adnan. Aggiunge che pensa che Zuleya voglia vendicarsi di lui per tutto il dolore inflitto e che stia cercando di rovinargli la vita tramite un presunto incantesimo. Demir, sconvolto da queste rivelazioni, decide di recarsi al cimitero. Da lontano, osserva Zuleya accanto alla tomba di Yilmaz, profondamente turbato dalle informazioni fornite da Sevda. Nel frattempo, Sevda si reca da Umit, che aspetta notizie. Le conferma di aver eseguito il suo piano e di aver seminato discordia tra Demir e Zuleya senza destare sospetti. Tuttavia, esprime il suo dissenso riguardo alla moralità delle loro azioni, sottolineando che Zuleya è una persona buona. La trama si infittisce con inganni e manipolazioni, creando ulteriore tensione nel nucleo familiare. La fede di Demir in Zuleya è messa a dura prova, mentre Sevda riflette sulla moralità delle sue azioni. Umit si arrabbia con Sevda chiedendole se pensa che sia cattiva e meriti di soffrire, ma Sevda nega questa possibilità, sottolineando che non vuole che la vita di Umit venga rovinata per colpa di Demir. Umit, rivelando il peso della sua sofferenza, le confessa che sta morendo per lui e le chiede di mantenere la promessa che si sono fatte, di non deluderla. Sevda assicura che manterrà la promessa fatta. Nel frattempo, Demir si trova con Fecheli e gli chiede della madre. Fecheli condivide il suo amore per Unkar, dicendo che l'ha amata fin dal primo momento in cui l'ha vista e che l'amerà fino al suo ultimo respiro. Demir, cercando di comprendere il concetto dell'amore che sopravvive oltre la morte, chiede come sia possibile. Fecheli spiega che quando si ama davvero, l'amore supera la morte, poiché l'anima continua a vivere. Per lui, Unkar non è mai morta, è sempre con lui perché vive nel suo cuore. Successivamente, Fecheli chiede a Demir il motivo di queste domande e se dubita di Zuleya. Demir risponde esprimendo il desiderio di credere che Zuleya lo ami sinceramente, ma l'incertezza lo tormenta. Fecheli, per tranquillizzare Demir sul suo amore per Zuleya, racconta di quando Yilmaz morì. Zuleya lo vide accanto a sé, testimoniando il suo affetto e il suo buon cuore. Così, Demir è diventato parte di Zuleya, sostituendosi in qualche modo a Yilmaz. Fecheli consiglia a Demir di non dubitare dell'amore di Zuleya, poiché il dubbio può distruggere il sentimento. Nel frattempo, Fikret, con Umit nelle vicinanze, chiama Zuleya per dichiarare di voler risolvere i problemi con Demir, ma di non riuscire a parlargli direttamente. Le propone di incontrarsi per cercare una soluzione insieme. Sevda, a conoscenza della situazione, osserva Zuleya uscire da casa e prega Dio perché perdoni lei e sua figlia. Zuleya e Fikret si incontrano in un caffè, dove lui le spiega che non ha mai avuto l'intenzione di nuocere alla loro famiglia, ma solo di attirare l'attenzione di Demir, che è suo fratello. Zuleya, incredula, chiede a Fikret come possa essere così sicuro di essere suo fratello. Fikret le rivela che sua madre glielo ha confessato sul letto di morte, altrimenti non avrebbe motivo di dichiarare di essere suo fratello. Aggiunge che ciò che desidera da Demir sono solo le sue scuse. Nel frattempo, Umit, appostata nelle vicinanze, fotografa il momento in cui Fikret stringe la mano a Zuleya. La puntata di sabato si conclude con un punto di domanda, lasciando gli spettatori con l'interrogativo su cosa stiano tramando Umit e Fikret. La risposta verrà svelata nella puntata serale di domenica, promettendo ulteriori colpi di scena nella trama. Per rimanere aggiornati, l'appuntamento è nel prossimo video in cui vi racconteremo tutti gli sviluppi. L'invito è sempre quello, continuate a seguirci iscrivendovi al canale, lasciate commenti e mettete mi piace. Un abbraccio a tutti, e ci sentiamo presto con le nuove anticipazioni.